Bene 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 ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video Sembrerebbe che il breakout di Ethereum di sabato scorso sia in effetti validato Perché nella giornata di oggi ragazzi il mercato sta spingendo oltre la resistenza a 1300 dollari E quindi sembra che voglia confermare quello che è successo nella giornata di sabato Vedremo per diciamo sicurezza finale poi nella chiusura della giornata di oggi di lunedì ragazzi Ma il breakout confermato da Ethereum è già stato confermato da altre criptovalute abbastanza importati come Polygon Matic Ragazzi qui abbiamo parlato nel video di domenica con le 5 top cripto e neanche il tempo di finire Il video Matic è decollato e tra le altre cose si è avvicinato a livello di resistenza Di cui vi ho parlato proprio nel video di domenica ragazzi Magari andatelo a sfulciare le top 5 cripto superporti della scorsa settimana Quali sono i dati invece da un punto di vista di analisi ciclica Ieri e l'altro giorno abbiamo parlato appunto di queste cripto dal punto di vista di analisi tecnica Oggi invece riprendiamo quello che è l'analisi ciclica di Bitcoin e Ethereum Andiamo a vedere un po' con questi nuovi dati che i mercati ci stanno mettendo davanti Che cosa sono, diciamo come sono cambiate le questioni cicliche Quali sono i dati significativi di questa settimana Bitcoin un po' stenta ragazzi Quindi andremo anche a comprendere un po' il senso della cosa Da un punto di vista anche di dominanza E mi interessava farvi vedere il rapporto Ethereum-BTC Perché è un po' sbottato Quindi dopo i ribassi degli scorsi mesi Sembrerebbe che il rapporto cambio BTC-Ethereum E quindi la forza relativa di Ethereum-BTC Sia un po' invertita nel breve periodo Bene, allora prima di andare avanti ragazzi Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Lasciatevi anche i pollicioni che mi aiutate con il video Ma vi do subito la news negativa Cioè quella che è la news peggiore secondo me in questo caso Vabbè è un dato, in realtà non è una news I miners hanno scaricato 14.000 BTC Ragazzi, 14.000 Bitcoin Vi faccio vedere il grafico direttamente Questo è il grafico Quindi i relativi dei miners hanno indicato Nella scorsa, oltre diciamo alla fase di bassista Che vedete era già abbastanza pronunciata In tutto il mese di giugno E una buona parte di luglio Nelle scorse giornate, proprio nel weekend Hanno scaricato 14.000 BTC Ragazzi, probabilmente per ricoprirsi delle spese Ora, c'è una teoria in questione Che riguarda appunto i dati non grafici Quindi non quelli che sono gli andamenti grafici Di cui parliamo tra poco Ma quello che invece è È un dato di natura fondamentale Analisi quindi che riguarda un po' l'onchain eccetera Cioè la questione che Durante una barra di congestione di prezzo Come quello che abbiamo visto fare In questa fase Da Bitcoin ragazzi Cioè questa struttura qui Per capirci Quindi questa mini congestione Un'analisi Che si va a confrontare con un'analisi onchain Che vede uno scarico importante Di questo livello di Bitcoin Da parte dei miners Indicherebbe teoricamente Che siamo in una fase non di accumulazione Ma di distribuzione E che queste fasi di recupero Da parte del mercato O delle cripto Vengano poi utilizzate da balene E i miners sono un po' balene ragazzi Per scaricare delle criptovalute Questa cosa diciamo È un dato negativo Perché dall'analisi onchain Sembrerebbe capirsi Sembrerebbe uscire fuori questa cosa Io personalmente ormai Lo sapete sono molto restio Dal valutare questo tipo di analisi Ai fini del prezzo Cioè dell'andamento dei prezzi di mercato Perché in realtà Non c'è mai stata Una reale correlazione Ragazzi E i miners In linea di massima Quello che fanno È Gestire dei business E quindi a volte Hanno necessità Di rientrare Quindi con le liquidità E scaricando appunto Bitcoin Vendendo i Bitcoin Perché semplicemente Ragazzi Devono Rientrare delle spese Tecniche Sulle attrezzature Magari condizioni autoritarie Soprattutto energia elettrica In questa fase Condizioni autoritarie Per tenere i miner Diciamo Non subiscaldati In linea di massima Non sono correlati Gli atteggiamenti Dei miners Agli andamenti Dei prezzi Sono semplicemente Un dato Che si può valutare Anche in ottica Di Cosa significa? Significa che non Non ha una correlazione È tale per cui Se io vedo Uno scarico Da parte dei miners Posso Ragionevolmente Presumere Che siamo in una fase Di distribuzione Però è un dato Che posso valutare Insieme ad altri dati Questo è il concetto Cioè Ha un impatto Magari del 10 20% Non un impatto Del 60 70 Questo in linea di massima È sempre quello Che è anche successo Nei precedenti Nelle precedenti fasi Vedete L'ultima chiusura Del ciclo annuale Di Bitcoin Quello di luglio Del 2021 I miners Un pochino Avevano scaricato In questa fase Poi però Il mercato Vedete Ha continuato A scendere In effetti Sembrerebbe proprio Che questa Struttura attuale Sia molto simile A questa precedente Proprio anche Con il break Di questa mattina Che vedremo Se Bitcoin Lo confermerà A dire la verità Bitcoin è molto Molto lento Però sembrerebbe Proprio andare A indicare Il pezzettino Che vedete In questa fase È proprio identico Ragazzi Dopo le due fasi Ve lo faccio vedere Anche sul Grafico Eccolo qui Sembrerebbe essere Molto Molto simile A questa fase Qui Vedete Con la barra di congestione Il fake breakout Dato qui E poi lo scarico Finale Con il minimo E' esattamente Coincidente Dopo qualche mese Perché proprio Di questo Che secondo me Dobbiamo parlare In questo momento Cioè L'analisi ciclica E il fatto Che Bitcoin Ed Ethereum Soprattutto Con il breakout Fatto nei giorni scorsi Che sta confermando Probabilmente Oggi Ancora non è chiusa La giornata Ma Sembrerebbe volerlo Confermare Sancisce In sostanza Il Concetto Che nell'ultimo minimo Si è iniziato Un ciclo Timestrale Un po' lo sapevamo Ragazzi Eravamo un po' indecisi Se fosse Un unico mensile Perché siamo in fase Di Attenza Diciamo Di questa struttura Dell'annuale Di chiusura Dell'annuale Siamo a luglio Come vi dicevo E' un po' percoce La questione Agosto Settembre Un po' meglio Allora Se Questo Grafico Vi faccio vedere Anche il grafico Di Ethereum In pratica In sostanza Indica Che su questo minimo È iniziato Un nuovo ciclo Trimestrale Così possiamo Indicarlo Vediamolo qui Che è un po' meglio Perché è un grafico Più Più pulito Allora Su questa parte qui Ragazzi È iniziato Un nuovo ciclo Trimestrale Più o meno Una ventina di giorni Teoricamente Porterebbe il massimo In questa sua fase Prima decade di agosto Come Diciamo Tutte le strutture Non ho l'aria Ragazzi Attenzione Non ho fatto L'aria di prezzo Ma l'aria di tempo Va bene Facciamo così L'avetto qui giù Va così Lo litighiamo Con le incomprensioni Allora Questa area Temporalmente Dovrebbe essere Un'aria Di massimo Di questo ciclo Trimestrale Di ethereum E poi Andremo a vedere La questione La stessa cosa Potrebbe essere Appunto Quella Di bitcoin E quindi Richiamare Alla perfezione Questa zona Qui Cioè il fatto Che il mercato Potrebbe in effetti Andare a replicare Alla perfezione Quello che è successo Nel precedente Il ciclo annuale Facendo appunto Questo pump Con un break leggero E poi la chiusura Del ciclo annuale Questo che vedete È proprio Un trimestrale Vi faccio anche Il calcolo Del tempo In questione Che appunto Sono circa È un trimestrale corto In questo caso Ragazzi Ma sono 60 giorni Allora In questa zona Qui Io L'ho allungato Moltissimo Verso fine Mese di settembre Ci potrebbe anche stare Ovviamente Va bene In queste fasi Di chiusura Ragazzi Non è rilevante Un mese in più In poesie in meno Perché stiamo parlando Di un anno Quindi Non venite a considerare I dieci giorni Come una struttura Di differenza Non è quello Che ci interessa In questa fase Che Non sappiamo Se questo minimo Fatto Giugno Sia L'inizio Proprio Del nuovo Annuale Quindi Se ne Parla L'anno Prontimo Oppure E mancano Appunto Questi due Tre mesi Per andare A chiudere La struttura Magari Con un doppio Minimo Perché Invece L'informazione Di questo App Magari Di Ethereum Ci può Indicare La possibilità Che magari Il mercato Anche Qualora Dovesse andare Ancora A chiudere Questa storia La fa Magari Con un doppio Minimo In una zona In un modo Simile A questo Sembrerebbe Un po' Chiamarla La questione Ragazzi Però Ovviamente Distinguete Sempre Quello Che è Un'analisi Previsionale Come un'analisi Di natura Ciclica Che ci indica Delle idee Delle Previsioni Possibili Quindi Aleatorie Ma probabili E quello Che invece L'operatività Tecnica Che deve Essere Fatta In base All'analisi Tecnica Che in Questo Caso Sancisce Un breakout E quindi Un ingresso Long Su Ethereum Per ovvi Motivi Ragazzi Come era Quello Fatto Ad esempio Sulle Percenti Crypto Che vi Ho Fatto Vedere Nei Percedenti Video Anzi Ve le mostro Che sono Esenzialmente Queste qui Ragazzi Queste Sono tutte Le cripto Voluta Che abbiamo Visto Nei Due Percedenti Video Le top 5 Low Cup E le top 5 Super Forti Che sono Le top 5 Della Top Cup Quindi Che hanno La grande Capitalizzazione Queste 5 Le abbiamo Viste Ieri Queste Altre 5 Ragazzi Fino A TRB Le abbiamo Viste La scorsa Settimana Di cui In particolar modo Ragazzi Enz Ha veramente Un bel Trend Moltissimi Anche in Academy L'hanno Trattata Comunque Sta facendo Buoni numeri Di qui Invece Abbiamo Parlato Nella giornata Scorsa Quindi Tutti Questi Segnali Al di là Della Questione Ciclica Che Porta Ancora Un po' Di Dubbio Su Questo Rialzo Sono Sincero Sono Comunque Segnali Di natura Tecnica Quindi L'operatività Va fatta Secondo Non è Si Tecnica Ethereum Invece Molto Forte Dal punto Di Vista Ciclico Secondo Me Indica Un po' Come Abbiamo Parlato Ieri Su Matic L'inizio Di Come Matic In questa fase Ragazzi Tra le altre cose C'è questa news Di Matic Il 20 Di Luglio Quindi Fra qualche giorno Dovrebbero Uscire con una news Che Sembrerebbe essere Una news Di natura Tecnica Vediamo se regge Oppure fa il Sello news Adesso vediamo anche Matic Ragazzi Il grafico Perché ha raggiunto Già il livello Di resistenza Di cui abbiamo Parlato Ieri Allora C'è questa Struttura Di rialzo Che se anche Utilizziamo La Oscillazione Di volatilità E il 60% Su Ethereum Chi ci sta Ragazzi Non ha Così tanto Vedete Non è così tanto Ampio Rispetto ai precedenti Quindi anche La struttura Precedente Che è questa qui Che era Una struttura Ciclica Vi faccio Vedere Il calcolo Tempistico Di Questi Praticamente 1440 Giorni È una struttura A 4 tempi Quindi 4 Diciamo Mensili Molto Lunghi Ha dato Comunque Il via A questa Fase Di rialzo Quindi È la stessa Cosa Anche qui Ragazzi Anche se qui Andiamo a ragionare In termini di volatilità Non possiamo Presumere che Da un ciclo del genere Si è iniziato Un nuovo annuale Perché È troppo poco Il rialzo E non è Certamente Un rialzo Di questo tipo E poi vi faccio vedere Insomma Qui Cambia radicalmente Ma neanche questo qui Che era più o meno 140 O addirittura La prima fase Di rialzo Cioè Questo punto qui Che era 100 punti In questo Momento Ragazzi Questo rialzo Su Ethereum Potrebbe Comunque ancora Appartenere Alla struttura Del vecchio ciclo Annuale E concludersi Appunto In questo modo A dire la verità Sarebbe la soluzione Più semplice La migliore di tutte Con un bel Doppio Minimo Di congestione E il tempo Che scorre Intanto sono molto contento Comunque Che i mercati E le crypto Siano riusciti A recuperare Un pochino Di vitalità In questa fase Come vi dicevo Per me La soluzione migliore Era perdere Tanto tempo In questi mesi E un break A rialzo Un recupero Un po' di verde Mette un po' di limpa Alla questione Crypto Quindi li fa ritornare Diciamo Più o meno In salute Leggera E soprattutto Dona tempo Al mercato Di fare i suoi giochi Poi da qui Magari E di sotto Nuovo annuale Questo Ovviamente lo sapremo Solo dopo Ragazzi Nessuno lo può sapere Prima Solo Secondo me Al di sopra Di questa zona Iniziamo Quindi sopra Insomma 2000 circa Per quanto riguarda Ethereum Iniziamo ad avere Dei dati Che sono Un po' In fase Eccessiva Rispetto al Semplice rimbalzo Di un ciclo trimestrale Quindi solo Al di sopra Di questa zona qui Al momento Godiamoci comunque Questo Questo verde Ragazzi Vediamo un po' Che cosa può fare Per esempio Andiamo a ragionare In termini di struttura ciclica Su Bitcoin Per capire Anche Se effettivamente Questo Questa struttura Su Bitcoin Può essere Vedete Continuata O meno Allora Bitcoin intanto Stenta ragazzi Quindi non riesce A superare Il livello Di 22.6 Cioè il precedente Massimo Che era stato fatto Più o meno In questi giorni L'ha ritoccato Oggi A 22.5 Ma in sostanza È un doppio massimo Con il precedente Che era 22.4 Non riesce Ad avere Lo strancio Che ha Ethereum Questa cosa qui Insomma Fa un po' Riflettere Ecco Sembrerebbe Che Questa fase Insomma Sia Una fase Da valutare Soprattutto Nei Nelle prossimi Giorni Perché se Già domani Dopodomani Riesce Ragazzi Allora Senso Più che altro Non mi piace Il fatto Che abbia fatto Solo 26 giorni Questo Se guardiamo Il mensile Di Bitcoin Spot Perché se guardiamo Invece l'altro Che ormai Vi ho fatto Già vedere Adesso vediamo Lo tiriamo di nuovo In ballo Il CME Ragazzi Quindi Il future Allora Lì la questione Parla un po' Una lingua Diversa Perché In questo caso Vedete In questa fase Qui Siamo nel pieno Di questa struttura Del ciclo mensile Che poi si concluderà Verso il 5 agosto Quindi Se guardiamo Il Grafico Sul future Del CME Bitcoin Tutto regolare Ragazzi Questo è il nuovo Mensile Di Bitcoin Un po' Questa storia Ragazzi Del macello Che abbiamo Sul grafico Spot Rispetto Al grafico Del future È interessante Da vedere Perché sembrerebbe Aver ragione Di nuovo Il grafico Future Al momento Questa è la fase Anche qui Se ci portiamo Verso fine agosto Comunque Si parla sempre Fine luglio Scusate Si parla sempre Di una Dodicina di giorni Quindi ancora Il tempo Di fare Magari Il suo Leggerino Breakout E poi Chiudere Ce l'ha Fermo Restando Che questa fase Se dovesse fare Una cosa del genere Dovrebbe essere Sempre comunque L'inizio Del nuovo Trimestrale Anche per Bitcoin Quindi sia Bitcoin La Sia Ethereum Che Bitcoin Dovrebbero Avere iniziato In questo punto Un nuovo ciclo Trimestrale E quindi Almeno 60 Parra 70 giorni Perciò Questa fase Ragazzi Potrebbe continuare Per i prossimi Una settimana 10 giorni Vediamo se però Bitcoin ragazzi Da segnale Perché ok Ethereum Che è un pochettino Manipolato In questa fase Ma se Non superiamo Almeno i 22,6 Di Bitcoin Non abbiamo Segnali Da re E questo È un po' Insomma Significativo Quindi Almeno una chiusura Qui su Ci deve stare Ragazzi Sembrerebbe Vi ripeto La fotocopia Di quello che è successo Nella chiusura Dell'annuale Qui Praticamente Se io vi sposto Con il replay Per esempio E vi metto In questa zona Ragazzi Guardate Un po' La struttura E sembrerebbe La fotocopia In pratica Di quello che poi È andato A succedere Vedete Nel Nel precedente Backout Cioè poi Una fase Insomma Di ribasso Che ha portato Alla chiusura Del ciclo Annuale Su Su Bitcoin Allora Io sono In questa fase Seguo Costantemente Quello che sono I miei trading system Quindi siamo Rientrati Log su Ethereum PC Ancora no Mi ha Sfatato Un pochettino Perché mi ha fatto L'effetto ping pong Il mio trading system Un classico Day breakout Ovviamente Ragazzi E a volte Vengono queste strategie Quando danno Segnali di breakout A volte poi Il mercato Torna indietro E vi fa Lo stop Loss Purtroppo Questa volta È andata così Ma Diciamo che Ci ha salvato Le chiappe Come si suol dire In questo Bear market Quindi Non gli possiamo Di niente Insomma La macchina È una macchina Quindi un po' Ragiona Così Allora Andiamo Invece poi A vedere Il cambio Ethereum BTC Che mi piace Moltissimo Mostrarvi Anche perché Vedete Intanto io Questo grafico Di Bitcoin Future Ragazzi Teniamolo sotto controllo Perché sembrerebbe Veramente stra pulito E indicare A questo punto Una fase In questa zona Di possibile Diciamo Chiusura Di questo pensiero Quindi io Questo me lo tengo Sempre Molto stretto Andiamo a vedere Però Ethereum BTC Allora Andiamo a vedere Questo Grafico Che non trovo Più Pratica Dove sei finito Ethereum BTC Eccolo qua Ragazzi Allora Vedete qui La struttura Di Ethereum BTC Come ha cambiato Trend proprio Grazie al breakout Di giorni scorsi Ragazzi Quindi esattamente Nella giornata Del 16 di luglio Quindi due giorni fa Ha invertito Il trend Di breve periodo Della sua struttura Ribassista Che aveva Contro Bitcoin Vedete Dal massimo Del novembre Del 2021 Dove il mercato Aveva iniziato Una fase ribassista Di Ethereum Contro BTC Sempre legato Alla famosissima Barra di congestione Di cui vi ho parlato Da un anno Che abbiamo Diciamo Azzeccato In questo caso Uso questo termine Un po' simpatico Ovviamente Non è Non è Diciamo Proprio così Però l'abbiamo Individuata In tempi In memory Intorno a maggio Del 2021 È la zona 0.075 0.085 Bitcoin Ethereum Sembrerebbe Ragazzi Che Questa zona Sia appunto La fase O di Vedete Anche qui Dal punto di vista Di struttura Cicc Anzi Mettiamo il settimanale Così lo vediamo meglio Perché È più Nitido Ok ragazzi Allora Sembrerebbe Vedete Che siamo Proprio Nel rimbalzo Di una nuova Struttura ciclica Bitcoin Ethereum Che è La classica Che fa Ethereum Contro BTC Cioè Una struttura Da 300 giorni Che sembra Appunto Unire Quelli che sono Due annuali Su questo cambio Quindi sono due Annuali Insieme Circa 900 giorni A forma Ternaria Di questo Ne abbiamo già parlato 1, 2 e 3 Quindi Soltanzialmente Non sappiamo Ancora Non abbiamo idea Diciamo Se si è iniziato Proprio L'ultimo Terzo Diciamo così Del cambio Ethereum BTC O È semplicemente Una fase Di rimbalzo Di questa Struttura Che poi dovrebbe Concludersi A momenti Quindi ragazzi Se si dovesse Andare a verificare L'ipotesi Che Questa struttura Da 300 giorni È Ancora da chiudersi E sembrerebbe Teoricamente così Perché qui siamo A 2,38 È anche vero Che sono strutture Centrali Di cicli Quindi ci può Assolutamente Stare Una cosa del genere Ragazzi Perché È un po' Complicata Qui l'analisi ciclica Da spiegare Diciamo in un video Ragazzi Però In una struttura Del genere Se uniamo Due Maxi cicli In pratica Le parti centrali A volte si accorciano Rispetto alle due Laterali In quanto sono Quelle un po' Più rumorose Vabbè È un discorso Un po' Complesso Però In linea di massima Potrebbe Anche Aver fatto La chiusura A 240 giorni Questa fase Un po' corta Ve lo dico Con estrema Sincerità Io Andrei Cauto Perché qui Ancora una volta Chiama appunto Intorno a settembre Quindi come Proprio la fine Di questo ciclo trimestrale Sembrerebbe una cosa del genere Penso che la vedremo Tra poco ragazzi Perché Una forza Di Ethereum Contro Bitcoin Che va Al di sopra Di questa trendline Che insomma Fatto così Sembrava un disastro Adesso vediamo Non è proprio precisissimo A tirare una trendline Su questo tipo di grafico Comunque va bene Lo facciamo lo stesso Allora Al di sopra Di questo punto Sicuramente Insomma Iniziano Ad esserci dubbi Che qui Sia stata proprio chiusa Questa fase Di bassista E ne sia iniziata Un'altra Però Ancora una volta Ragazzi Vedete come Il pair di cambio E Ethereum BTC Nonostante il rimbalzone Intorno a questa fase Non è fuori Pericolo Perché il trend Resta Comunque al ribasso Perché questo è un minimo Questo è il massimo Massimo Inferiore Minimo Inferiore Quindi come Da statistica Ragazzi Questo trend È al ribasso Perciò Non ha invertito Il pair Non ha invertito Scusate Il pair Non ha invertito Il trend Della fase di bassista Questo dato È un dato Quindi potrebbe Anche significare Che semplicemente Bitcoin recupera Forza relativa Contro Ethereum Nei prossimi giorni E si continua Magari a salire Per un po' di tempo Però Vedete quanti dubbi Quanto intersecata Questa fase Quanto in questa fase Dei mercati Ragazzi È molto Molto importante Avere Formazione Avere La capacità Di Saper stare Sul mercato Del genere E saper operare Con più strategie Perché Non abbiamo Dei punti Chiari Su una serie Di situazioni E quindi Come si fa Poi A mettere mano E a operare Con l'analisi tecnica Con le strategie Con i trading plan Con la formazione Ragazzi Poi ovvio Se voi mi dite Io compro A prescindere Vabbè Allora Quello è un altro Tipo di discorso Insomma E ci può stare Però Questo cambio Ragazzi Secondo me Indica Che Ancora Una volta Bisogna stare Molto attenti A questa fase Qui Perché potrebbe essere Il famoso Must short E tiri un BTC Questo E quindi Attenzione Vediamolo In questa settimana Vediamo come chiude Magari poi Riprendiamo Questo grafico Perché no Verso la fine Del settimana Allora Un video Un po' Pieno pieno Zeppo Di informazioni Tantissime news Ragazzi Andiamo a vedere Poi Matic Perché è rimbalzata Nella Sua fascia Di prezzo Di cui vi ho parlato Ieri C'è questa News il 20 Che scatenerà Magari qualcosa All'imperno Come si suol dire Vedremo con calma Adesso Riprendiamo intanto Quello che era Appunto Matic Di cui abbiamo parlato Nello scorso video Ragazzi Eccola qui Allora Vi avevo indicato Proprio nel video precedente La possibilità Che Matic Si avvicinasse Alla zona Di un dollaro Perché ragazzi Questa cosa qui Perché non c'era Nessun tipo Non c'era Nessun tipo Di resistenza All'interno All'interno Di questa fase Dopo il breakout Avvenuto Qui nei giorni scorsi Della zona 0.7 In pratica Poteva fare Il pump Evidente L'ha fatto Oggi Quindi Ne abbiamo parlato Ieri Tutto secondo Le regole Insomma Questa fase Qui Vedremo cosa Succederà Nella prossima News Non ha dato Nessun segnale Di ingresso In dip Quindi All breakout In questa fase Ragazzi Non c'era Un'altra possibilità Su Matic Perché il mercato Non è tornato indietro Spesso quando il mercato Fa queste cose Vuol dire che è molto forte Quindi Non è da sottovalutare Una cosa del genere Ancora Siamo Comunque Nella zona Vedete Del canale Che sembra Ribassista Io non credo Che un mercato Che abbia avuto Un rialzo Così forte Lo faccia Per un semplice Una semplice Manipolazione Sono sincero Molti di voi Ho fatto un sondaggio Su Twitter Ragazzi Iscrivetevi ai miei social Li trovate in descrizione Ragazzi Twitter Soprattutto Che Parliamo insomma Tante cose Ci scambiamo anche Nei commenti Un po' Di Informazioni E Soprattutto ragazzi Anche lì Ho fatto un sondaggio Molti di voi Dicono Il must sell On news Il dampone Sta arrivando Eccetera Io non credo Che un rialzo Di 200 punti percentuali Su una cripto Di questo tipo Sia dovuto Solo Esclusivamente A una Manipolazione Del prezzo Magari Un po' L'effetto Riflessivo C'è sicuro No? Un po' Il mercato sale Tutti salgono sul carro E quindi magari Ampliano Le fasi Di volatilità Però sicuramente Qui è iniziato Al 100% Un nuovo ciclo trimestrale Ormai Insomma Ne abbiamo parlato ieri Ma Assodato Che sia così Ragazzi Poi che ancora Magari siamo nel precedente Annuale Ci può anche stare In questa fase qui E quindi magari Ci spostiamo In questo caso Addirittura Verso fine Settembre A chiudere I giochi Con magari Un doppio minimo Leggero Però è un bel rialzo Ragazzi Questo E indica Anche moltissimo Che le cripto Sono in gran forma Nonostante La fase Beish Veramente pronunciata Di questo Di questi ultimi mesi Allora Il livello di resistenza Però a un dollaro È un livello Molto tosto Ve lo dico Questo è un livello Molto tosto Perché È coincidente Con tutte queste fasi E È vero che il mercato Ci può passare su Perché È una cripto Sempre piccola Quindi facilmente manipolabile E può magari Tentare di fare Un po' Il famoso Fake break Qui Ci magari Ci fa le shadow Classiche Però secondo me Il mercato riposerà Sempre se arriva A questo livello Il successivo livello Visto che ormai Questo è arrivato In un giorno Successivo livello 1.22 Va bene ragazzi Allora Matic Cavallo di battaglia In questa fase Aspettiamo però Il 20 Che tirano fuori Questa news Vediamo se fa il sell on news Io sono fiducioso Che anche se ci sarà Un sell on news Non sarà Un'inversione di trend Di breve Mi interessa molto Questa che ti ho voluto Ormai lo sapete Avevo un pack Vi ho spiegato questa cosa Magari in settimana Andiamo a parlare Di come crearlo In maniera automatizzata E poi Vi do una news Domani Facciamo la solita live Nostra ragazzi E nella live Vi do una news Di un grande evento Di un super evento Picchissimo Per trader Che sto organizzando E che sarà La prossima settimana Ragazzi Quindi Attenti Allora Di domani Perché ci sarà Anche L'update Di questa news Di questo evento Con un gran premio Anche per tutti Diciamo Insomma Per chi vincerà Insomma Questa Questo evento Quindi sarà Ormai un contesto Ormai l'avete Un po' intuito E una figata Lo faremo Su un super exchange E Lo facciamo come Diciamo Pre estate Perché insomma Pre vacanze Anche perché io Poi verso Agosto O luglio Me la svigno Diciamo Un po' In feria Va bene ragazzi Allora Ciao a tutti Ci vediamo domani Per questa super news Fatemi sapere un po' Come state gestendo Questa fase Se siete riusciti Per esempio A cavalcare Un po' dei treni Se siete riusciti A fare qualche operazione Cina Ricordatevi Che non dovete mai Prendere tutto La torta Perché è un po' Difficile da fare No? E però Se riuscite a mettere Lo zampino Quando ci sono Questi rialzi Allora State facendo Bene Il vostro lavoro Non si compra mai Sui minimi Si compra con strategie Trading plan E logica E si sa Quello che si sta facendo Il resto è solo Fortuna Solo gossip Solo credenze Solo magia Che non esiste A meno che Non siete appunto Gandalf Va bene Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video